Il mondo del software libero Così non c'era nessun modo per usare un computer ed essere un buon cittadino, essere un buon vicino. Decisi di cambiare questa situazione. Non potevo farlo cambiando le leggi. Ero solo un singolo individuo. Il governo non mi avrebbe mai ascoltato. Non potevo nemmeno convincere le compagnie a cambiare la loro politica. Neanche loro mi avrebbero ascoltato. L'unica cosa che potevo fare era programmare. Così decisi di creare un altro sistema operativo che sarebbe stato un software libero. E in questo modo saremmo stati liberi. Ero solo un'ohno sporte. L'esercitazione di un'esercitazione Nel 1884 cominciai il vero lavoro, sviluppando il sistema operativo GNU. E all'inizio degli anni 90 il sistema operativo GNU era in gran parte finito, ma mancava ancora un pezzo importante. Poi qualcun altro colmò la lacuna, scrivendo un programma libero che faceva proprio ciò che mancava. Quel programma si chiama Linux. Così, usando Linux per completare il sistema operativo GNU, si ottenne un sistema operativo libero completo. Noi, gli sviluppatori di GNU, non realizzammo questa combinazione perché stavamo sviluppando un altro kernel, che pensavamo sarebbe stato pronto in breve tempo, ma non fu così. Altre persone presero il sistema GNU quasi finito ed usarono Linux per completarlo. In altre parole, le persone cominciarono ad usare un sistema, che è GNU, con l'aggiunta di Linux. E questo sistema adesso è usato su decine di milioni di computer. Linus Torvalds ha scritto il kernel Linux, e ciò fu un grande contributo alla nostra comunità. Ma non fu l'inizio. In seguito, il movimento del free software e quello dell'open source si sono separati. Lavorano insieme, ma animati da scopi e progetti differenti. Entrambi i movimenti condividono l'idea della disponibilità, completa e senza limitazioni, del codice sorgente, ma si diversificano per alcuni aspetti filosofici e di principio. Per il movimento dell'open source, il fatto che il software debba essere rilasciato con il codice sorgente aperto, è un vantaggio pratico. Il lavoro della comunità di sviluppatori è considerato come una straordinaria opera di scrittura, debug e miglioramento del software. Per il movimento del free software, invece, è innanzitutto una questione etica e sociale, e la comunità rappresenta un luogo per una condivisione del sapere e delle conoscenze. C'è molta confusione circa la corretta terminologia da adottare, e spesso le definizioni rilasciate dipendono dal movimento di appartenenza. In generale, la definizione di open source è la disponibilità del codice sorgente, per motivi di carattere tecnico ed operativo, mentre la definizione di free software si riferisce espressamente alla libertà dell'utente. Nonostante in questo periodo il free software, l'open source software, le due grandi tipologie sotto cui ricade il software libero, si sono sviluppati in parallelo, è successo quello che Bruce Perens aveva profetizzato. Le aziende, quando parlano di software libero, quando si interessano del software libero, privilegiano la formulazione del software open source. Ma il free software e il software open source permettono, da un punto di vista pratico e tecnico, di fare all'incirca le stesse cose. L'elemento che li differenzia e le caratterizza, invece, è il tipo di licenza con cui i prodotti vengono distribuiti. Le differenti licenze rappresentano atteggiamenti e orientamenti diversi rispetto agli istituti giuridici della proprietà intellettuale e del copyright, e sono oggetto di un acceso dibattito negli Stati Uniti come in Europa. Un dibattito che però, dopo il software, ha investito molte altre opere di ingegno e che nel frattempo hanno visto l'entrata in scena dei grandi big dei media e dell'intrattenimento. In ogni caso, mentre il free software tende a ricadere sotto le tutele giuridiche della GPL, la General Public License elaborata da Richard Stallman e della Free Software Foundation, per il software open source, vengono elaborate delle licenze ad hoc che definiscono di volta in volta i gradi di libertà connessi all'utilizzo del software. Il software libero non è l'open source. L'open source è sicuramente l'opportunità di rendere disponibile del codice sorgente, quindi completamente aperto, e di farlo evolvere, grazie alla comunità. Faccio un esempio molto concreto. Suze Linux, il costo di un pacchetto di Suze Linux, non è legato al software, sarebbe ipocrita, sarebbe una bugia assoluta, perché è il frutto della comunità che lavora sull'open source, in particolare su Linux e quindi sul suo kernel. Quello che il costo del pacchetto copre è semplicemente la manutenzione e il supporto a questo software. La filosofia che sta alla base del movimento open source riguarda sostanzialmente l'aspetto economico. Io non ho iniziato ad usare il software libero per una questione economica, non ho iniziato ad usarlo perché era tecnicamente migliore. Può darsi che sia migliore, e sono certo che lo sarà sicuramente in futuro, e credo che in molti casi, anzi forse nella maggior parte dei casi, sia migliore già ora. Ma per me non è questo il punto cruciale, e non lo è per molti degli utenti del software libero, né per molti degli utenti futuri. Ciò che è importante è la libertà, e noi siamo persone che vogliono usare il free software per la libertà. L'open source è una comunità che invece dice, io lavoro sul sorgente, poi qualcuno si prende la briga di compilarlo, consolidarlo in qualcosa di eseguibile e venderlo. Nel 1999 nasce la fondazione Apache, l'open source diventa market leader. Dal 1999 ad oggi il web server open source Apache riesce a conquistare un'ampissima fetta di mercato dei server internet, quasi il 70%. La open source community che si riunisce intorno alla fondazione omonima è caratterizzata da un processo di sviluppo del software che è definito consensuale e collaborativo, mentre la licenza è definita open and pragmatic. Tutti coloro che collaborano ai progetti open source della Apache Foundation si considerano parte di una comunità di utenti sviluppatori. Novell ha scelto di occuparsi di open source, di collaborare con la comunità open source in quanto riteniamo che sia uno degli aspetti evolutivi della tecnologia nel mercato, una delle più grandi alleate per chi comunque pionieristicamente ha inventato delle tecnologie, mettendola a disposizione poi del mondo. L'open source è sicuramente importante perché permette di far evolvere le tecnologie, nel modo migliore e anche più veloce, peraltro, tenendo conto del fatto che la comunità lavora 24 ore su 24 sulle tecnologie che gestisce o a cui dedica tempo. E questo è un argomento importante per me. Guardiamo le aziende che si interrogano sui meccanismi della comunità, sul modo nel quale funziona e su come possano operare e parteciparvi, in contrapposizione a quelle che vogliono opporsi. E così Novell e IBM sono grandi aziende che cercano di capire come lavorare, come operare e come interagire con questa specie di comunità estesa che si è evoluta e ha creato qualcosa di veramente potente, e senza cercare di possedere o controllare la comunità, ma tentando di trarne profitto ed in un certo modo restituire. È un dare e ricevere all'interno della comunità stessa. Cosa fa Novell verso l'open source? Indubbiamente prende dall'open source, però nello stesso tempo nel completo e totale rispetto dell'etica che è alla base della comunità open source dà anche. Quindi è un doubtless alla base di una corretta collaborazione fra vendor e fra comunità open source. Il movimento open source rende tutto una questione economica e ha sempre predicato che si possono fare software migliori. Si possono produrre software migliori e più funzionali commercialmente aprendo per esempio il bug report, aprendo il bug tracking system ad una comunità estesa nella quale gli utenti contribuiscono fornendo un codice. Ora, molte delle compagnie che hanno iniziato il movimento, come VA, sono fallite o non sono più impegnate nello stesso tipo di sviluppo guidato dalla comunità. Red Hat non sta fornendo il codice sorgente al maggior numero di persone possibile, anzi, stanno rendendo l'accesso al loro software sempre più difficile. Bisogna pagare per avere accesso. L'IBM si rivolge definitivamente a Linux e rende tutti quanti i suoi server in mainframe Linux compatibili. Red Hat ha conquistato una posizione di rilievo di leader di mercato in tutti gli Stati Uniti. In realtà ci si trova davanti a un bivio. Da una parte abbiamo chi lo vuole rendere free in tutto e per tutto, ma nello stesso tempo non è in grado di garantire supporto e manutenzione. Dall'altro chi, come invece per esempio Novelle, consolidandolo comunque in un prodotto eseguibile, quindi utilizzabile realmente, si impegna però a dare un supporto, quindi ad aggiungere qualcosa a quello che tipicamente il free software fa. Il punto non è se quello che stanno facendo è nello spirito del software libero o meno. Il punto è che quel modello che ha portato alla creazione dell'open source non è più così attraente. Le persone che parlavano di usare software open source, le persone ne parlano tuttora. Le licenze alla base di quel software non sono fallite. Sono vendute su più computer di quanto non lo fossero prima. Ma la distribuzione Linux GNU con la crescita più rapida è Debian. non è né Red Hat né SUSE. Ed il motivo è che molte persone oggi usano il software libero, anche le persone che dicono di usare l'open source. Infatti spesso chi dice di utilizzare l'open source in realtà si riferisce al software libero, come ad esempio il governo brasiliano, le scuole, i cittadini europei, le organizzazioni no profit. Ed è molto usato. Per esempio, nell'ultimo anno sono stato a quattro conferenze sull'utilizzo del software libero in organizzazioni non profit. E queste persone lo vogliono usare non perché vi vedano un vantaggio economico, ma un aspetto più importante, la libertà. E c'è chi dice di voler usare software open source per avere la libertà di modificare il programma, la libertà di usarlo per ogni scopo. Ma questa è la definizione del software libero, non quella dell'open source. Nel 2001 nasce la Free Software Foundation Europe, affiliata alla Free Software Foundation di Richard Stallman, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'utilizzo del software libero in ogni ambito d'applicazione. Software libero significa software che rispetta la libertà dell'utente. Il software solitamente è proprietario. Il software che normalmente si possiede è un software proprietario e questo significa che tiene gli utenti isolati e privi di aiuto. Isolati perché è proibito condividerlo con il proprio vicino e privi di aiuto perché non puoi studiare il codice sorgente o cambiarlo e quindi non puoi controllare quello che il software fa. Software libero significa che puoi condividerlo e cambiarlo. Software libero significa che hai quattro libertà precise. Libertà zero è la libertà di usare il programma a tuo piacimento e per qualsiasi scopo legittimo. Libertà uno è la libertà di aiutare se stessi ovvero la libertà di studiare il codice sorgente vedere cosa fa esattamente il programma e quindi cambiarlo per fargli fare tutto quello che vuoi. Libertà due è la libertà di aiutare il tuo vicino ossia la libertà di distribuire copie per gli altri e libertà tre è la libertà di aiutare a costruire la tua comunità ossia la libertà di pubblicare una versione modificata così che gli altri possano beneficiare delle tue modifiche. Tutte queste libertà sono essenziali. Se un programma ti offre tutte queste libertà è un software libero. Il software libero aiuta a creare un altro tipo di società e ci permette di stabilire la cooperazione, di aiutare. Se io avessi un problema svilupperei una soluzione e potrei condividerla con altre persone e queste persone avrebbero la facoltà di migliorare, cambiare e modificare il software che io ho creato ed in questo modo anche io guadagnerei contribuendo a costruire una società della condivisione creando così cooperazione tra tutti gli esseri umani. È una differenza etica. Fondamentalmente il software libero permette la cooperazione tra tutto il genere umano. L'aspetto più importante è sempre stata la libertà. Ora, per avere la libertà possiamo cercare di fare discorsi economici. Il software libero è più veloce o è migliore o più stabile o ti permette di fare quello che vuoi. Il che in alcuni casi è vero ma non è per questo che io uso il software libero. Quando ho disinstallato Windows dal mio computer e installato Debian ebbene sì, non ho sempre utilizzato Debian. All'inizio non era valido quanto il software non libero che stavo disinstallando ma stavo partecipando ad un movimento sociale il cui obiettivo era produrre software libero che fosse migliore. Ed oggi il software libero è certamente migliore più usabile, più stabile, più facile da usare più veloce di quanto non fosse dieci anni fa. Ed è sicuramente meglio di quanto il software non libero fosse dieci anni fa ed in molti casi è migliore del software non libero disponibile oggi. È una tutela verso il mercato il fatto di dare un prezzo e di consolidare un licensing ben preciso al prodotto che io sto vendendo a qualcuno. Suse Linux secondo me è l'esempio più concreto di quello che il free software deve essere. È software libero ma diventa a un prezzo nel momento in cui io ho l'esigenza di avere supporto altrimenti non lo pago. Lo prendo lo prendo attraverso tutti i download che ho a disposizione in giro per il mondo però devo essere consapevole che in un momento di difficoltà non posso rivolgermi a nessuno se non nuovamente alla comunità che comunque basandosi su un'etica del do-t-des prima o poi se io voglio essere corretto se di correttezza stiamo parlando devo comunque anche con loro condividere qualcosa e non soltanto prendere. Una delle differenze tra il movimento dell'open source e quello del free software è proprio nel rapporto con la comunità e con gli utenti. L'open source accetta licenze sono alcune restrizioni nei diritti degli utenti sono ben 31 le licenze accettate e la open source definition stabilisce 10 punti pratici che definiscono quali criteri legali debba soddisfare una licenza per essere considerata open source. Il free software solitamente non ammette che nessuno possa limitare la libertà dell'utente. La GPL, la licenza maggiormente utilizzata concede all'utente le quattro libertà di Stallman di eseguire, studiare, ridistribuire e migliorare il software e impone che ogni modifica o copia debba essere rilasciata con queste libertà. Bisogna sottolineare però che ciò contro cui si battono sia l'open source che il free software è il modello del software proprietario che non concede all'utente alcuna libertà. La collaborazione con la comunità open source si basa quindi su una logica del doubt des è un'etica particolarmente importante che Novell ritiene di dover rispettare per reale collaborazione e partnership con la comunità. Questo permette però da un lato alla comunità di usufruire di quelle che sono le tecnologie inizialmente proprietarie condivise da Novell nei loro confronti ma nello stesso tempo consente a Novell di regolarmente consolidare in un licenza commerciale qualunque con copyright Novell che la mette in condizioni di poter erogare servizi di poter erogare manutenzione quindi supporto a tutte le aziende che lo richiedano. Ciò che viene considerata come proprietà intellettuale in realtà è un insieme di legislazioni che si rifanno a diverse cose come il copyright il brevetto e il marchio ogni principio è una cosa diversa il software libero si appoggia sul principio del copyright per questo la licenza sotto la quale si distribuisce la grande parte del software libero si chiama GPL è una licenza che si basa sul diritto di copyright e non esiste una contraddizione in questo ciò che crediamo è che la maggior parte delle licenze sotto le quali si distribuisce l'informazione e la conoscenza nel mondo moderno siano licenze troppo restrittive noi crediamo in un mondo dove l'informazione si propaghi liberamente quindi riteniamo che sia conveniente sviluppare programmi sotto licenze molto ampie che permettano la diffusione della conoscenza e crediamo anche che la formula con la quale si distribuisce il software proprietario sia assurda e crediamo che sia assurdo proteggere il software proprietario appellandosi al concetto di opera intellettuale i diritti di un utente dipendono normalmente dai diritti concessi dalla licenza che accettano quindi nel modello proprietario per esempio il modello Microsoft la maggior parte dei diritti dell'utente è negata perché i termini delle licenze limitano i diritti degli utenti negando la possibilità di distribuire fare copie interagire e modificare il software quindi nel modello proprietario i diritti dei consumatori sono spesso molto limitati i consumatori non possono esercitare i propri diritti né esercitare il diritto di soddisfare i propri bisogni al fine di ottenere il software di cui hanno bisogno per il proprio lavoro nei modelli alternativi di software non proprietari invece come nel movimento del software libero o del software open source le licenze danno ai consumatori la possibilità di fare copie del software distribuirlo farlo interagire con il proprio sistema operativo adattare il software ai propri bisogni per renderlo flessibile ci sono quindi molte differenze tra i diritti che i consumatori possiedono a seconda del modello di software che usano accade che verso il finire del 2001 microsoft annuncia la shared source initiative cioè una iniziativa di condivisione del codice sorgente di windows con governi istituzioni e istituzioni educative e alcune aziende leader dei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni microsoft afferma che vuole imparare dal modello linux microsoft dice che vuole imparare dalla comunità linux in realtà l'obiettivo di microsoft è quello di condividere con altri il proprio codice sorgente per essere aiutata nell'individuare buchi e malfunzionamenti quindi migliorare e affinare il suo codice rispetto alla sicurezza dell'esecuzione dei programmi quando si usa un software non libero si hanno due possibilità prenderlo o lasciarlo perché non si può cambiare lo si può avere solo così com'è ma con il software libero ci sono più possibilità lo si può tenere così com'è o lo si può lasciare ma si può anche usare con una piccola modifica o con una modifica un po' più grande oppure con una modifica ancora più grande o ancora con quell'altra piccola modifica ci sono moltissime possibilità chiaramente più grandi sono le modifiche e più verrà a costare quindi si cercherà l'alternativa migliore e supponendo che si farà una modifica allora si pagherà un programmatore per farla proprio come quando si acquista un edificio per viverci o lavorarci lo si può tenere esattamente così com'è ma si possono anche pagare dei muratori per cambiarlo e renderlo più funzionale ci sono varie possibilità ci saranno quindi molti programmatori pagati da differenti clienti per apportare diverse modifiche al programma ed è infatti ciò che sta accadendo ci sono diverse persone in Europa che si guadagnano da vivere così e una delle novità importanti è che quando paghi per avere la possibilità di utilizzare un software non libero il denaro è assorbito in quantità enormi da un ristretto numero di grandi aziende ma quando le persone pagano per adattare il software libero per modificarlo tendono ad impiegare persone del proprio paese della propria zona perché con loro si trovano meglio parlano la stessa lingua e così il denaro circola all'interno di diverse regioni invece di essere assorbito da poche grandi aziende altrove quindi in generale credo che sia economicamente migliore passare al software libero ma devo ripeterlo questo è solo un aspetto secondario la nostra libertà di cooperare è molto più importante è interessante perché questo nuovo approccio si basa sul concetto di copyright per dare potere ai consumatori per dare loro il diritto di fare ciò che vogliono con il software e questo è importante per diffondere libertà perché le persone sono veramente libere di usare strumenti e dispositivi senza dover chiedere il permesso e senza avere restrizioni per poter soddisfare i propri bisogni loro necessità in questo mondo nel 2002 il deputato peruviano Villanueva è protagonista di un durissimo scambio di accuse da parte della Microsoft Corporation peruviana il deputato aveva cercato di introdurre con un disegno di legge apposito l'utilizzo del software libero nella pubblica amministrazione in particolare nella scuola per recuperare gli investimenti relativi all'esborso per l'acquisto delle licenze di software proprietario questa vicenda è stata interpretata come l'ennesimo tentativo da parte di Microsoft di mantenere il suo monopolio e l'ennesimo tentativo di impedire ai paesi dell'America Latina di favorire l'informatizzazione delle proprie nazioni e della propria popolazione ci sono quattro ragioni per cui le scuole dovrebbero insistere sul software libero inizierò con il motivo più superficiale per risparmiare per poter avere una copia di software non libero normalmente è necessario pagare ora anche nei paesi più ricchi non ci sono mai fondi sufficienti per le scuole sono costantemente arretrate per la mancanza di denaro quindi perché si dovrebbero spendere dei soldi per avere la possibilità di usare dei software il sistema scolastico può servirsi di software liberi e fare liberamente tutte le copie che vuole e distribuirle a chiunque voglia comprese tutte le scuole invece di spendere denaro pagando licenze d'uso spendiamo denaro per insegnare ai professori ad usare l'informatica come strumento didattico e pedagogico questo permetterà che paesi come il Brasile migliorino il loro livello di educazione migliorino la loro possibilità di collocazione della cultura nazionale anche nella rete mondiale dei computer e questo ci porta ad un altro dei motivi per i quali le scuole dovrebbero formare adulti che sappiano usare software liberi per quale motivo far crescere persone dipendenti da qualcosa che impoverisce costantemente l'economia se le scuole insegnano le persone come usare software non liberi aiutano l'impoverimento della regione se invece si insegnasse come usare software liberi si permetterebbe alla gente di diventare indipendente e forte perché sapete Microsoft può anche fornire copie omaggio alle scuole per rendere le persone dipendenti ma una volta cresciuti e diplomati Microsoft non fornirà loro copie omaggio lo scopo di fornire copie omaggio alle scuole ai ragazzi è che una volta cresciuti saranno costantemente costretti a pagare in questo momento si stanno facendo battaglie importanti in diversi paesi del Sud America tra aziende come Microsoft e coloro che difendono il software libero Microsoft sta lanciando in tutta l'America Latina una cosa chiamata l'alianza per l'educazione tentando di formare bambini adolescenti e giovani nelle università e nelle scuole con i propri prodotti noi crediamo che questa educazione sia cattiva che non si possano formare le persone utilizzando un unico prodotto crediamo che si debbano formare con un'idea con un concetto con una conoscenza e che si debba insegnare una forma generica di lavoro mostrando come lavorare con il computer e non come lavorare con un prodotto specifico in Brasile sappiamo che se utilizzassimo il software libero nelle scuole potremo insegnare non solo alle persone a manipolare un unico prodotto potremo insegnare le funzioni di un software e questo dà maggiore autonomia alle persone usare un software libero non è solo un problema economico un problema di prodotto stiamo scegliendo un'altra tipologia di insegnamento e di apprendimento e il software libero è un problema che ci fa affrontare lobby potenti che vogliono donare licenze di software proprietario per impedire che il governo e le scuole usino software libero perché? perché l'impresa monopolio di software proprietario al donare la licenza dice nessun problema voi avrete il mio software gratuitamente ma non è di questo che si tratta noi non vogliamo addestrare i bambini noi vogliamo insegnare ai bambini e i bambini devono sapere che esistono varie possibilità e non solo trascinare e incollare oggetti come si vuole insegnare oggi sto analizzando i vari motivi da quello più superficiale a quello più profondo il prossimo motivo per cui i bambini a scuola dovrebbero usare software liberi è perfini puramente didattici nell'educazione informatica vedete alcuni ragazzi rimangono affascinati dalla programmazione e vogliono sapere tutto quello che succede all'interno del computer e questo include chiedere come lavora questo programma e se quel programma è un software non libero l'insegnante dovrà dire non lo so non sono autorizzato a saperlo e neanche tu sei autorizzato a saperlo e così la formazione dello studente finisce lì ma se il programma è un software libero l'insegnante potrà dire ecco qui il codice sorgente da questo puoi leggere esattamente come lavora questo programma e ti può esercitare a migliorarlo oppure a cambiarlo sei solo all'inizio e non potrai scrivere un programma intero uguale a questo ma potresti apportare una piccola modifica ed è così che le persone imparano ad essere bravi programmatori per essere un bravo programmatore e scrivere dei codici validi devi leggere e scrivere molto codice all'inizio non si è in grado di scrivere un programma intero da soli e quindi è necessario poter accedere ai codici di programmi scritti da altri per poterli leggere e cambiare e facendo una modifica dopo l'altra si acquisiscono le capacità per scrivere un programma intero e fare un buon lavoro è necessario leggere il lavoro degli altri per vedere cos'è facile e cos'è difficile da capire e quando si legge qualcosa che risulta molto difficile da capire si impara a spiegare ogni cosa nei propri programmi per non renderne complicata la comprensione questo è essenziale per formare coloro che sono interessati preparandoli ad essere bravi programmatori e questo è il terzo motivo nella società dell'informazione non basta insegnare a usare il software è necessario che si utilizzi la rete mondiale dei computer internet come uno strumento didattico e pedagogico la ragione più profonda per cui le scuole dovrebbero insistere nell'uso di software liberi è per insegnare alle persone come essere bravi cittadini abituarli alla cooperazione ad aiutare i propri vicini le scuole dovrebbero insegnare fatti e capacità alle persone ma la cosa più importante che la scuola insegna è come essere buoni vicini quindi le scuole dovrebbero avere questa regola ragazzi se portate a scuola dei software non potete tenerli solo per voi dovete permettere agli altri di copiarlo dovete condividerlo con la classe chiaramente le scuole devono mettere in pratica le proprie regole le scuole dovrebbero dire se porti software a scuola lo devi condividere con gli altri non puoi tenerlo solo per te e questo vuol dire che non puoi portare software non liberi in classe le scuole quindi dovrebbero fornire per le lezioni solo software libero e insegnare alle persone che le conoscenze vanno condivise così come il sistema scolastico anche le pubbliche amministrazioni potrebbero trarre grandi benefici dall'adozione del software libero per i propri sistemi informatici un risparmio economico relativo ai costi per le licenze un'indipendenza dai fornitori una migliore riusabilità e soprattutto un maggior grado di sicurezza un governo ha la responsabilità verso i suoi cittadini di mantenere il controllo dei propri computer e del loro funzionamento e l'unico modo per fare ciò è assicurandosi di usare solo software liberi perché quando si usano software non liberi non si è in grado di controllare i propri computer chi ha sviluppato il programma controlla ciò che fa ma non si può nemmeno scoprire cosa faccia realmente non si può verificare non si può revisionare il che significa che non si ha controllo ora è sbagliato se io e te non abbiamo controllo è sbagliato per noi ma quando è un governo a non avere il controllo dei suoi computer ciò non è sbagliato solo per il governo è sbagliato per tutti i cittadini che quel governo si suppone rappresenti e per i quali lavora il governo non ha solo il diritto ma ha la responsabilità e il dovere di insistere per l'uso di software liberi nei suoi computer i governi che cambiano verso un modello di software libero oltre ad avere programmi che lavorano proprio nel modo che desiderano intraprendono anche una strada che farà risparmiare molti soldi al loro paese poiché invece che dover spendere in licenze costose in soldi che vanno a Microsoft e a Bill Gates possono usare questi soldi per investirli in cose che il paese necessita veramente come depurare le acque o nutrire la propria gente quel denaro può essere speso così invece che darlo a Bill Gates il presidente brasiliano Luis Ignazio Lula da Silva redice un documento in cui chiede ai ministri federali alle agenzie e alle imprese di Stato di favorire l'utilizzo del software open source di tipo Linux-like invece di software proprietario per ogni nuovo computer l'obiettivo è di avere l'80% dei computer della pubblica amministrazione funzionanti su Linux nel 2004 il governo brasiliano ha deciso di incentivare l'uso del software libero per 5 motivi fondamentali il primo motivo è quello macroeconomico il secondo è di sicurezza il terzo è l'autonomia tecnologica il quarto è l'indipendenza dai fornitori e il quinto è la condivisione della conoscenza posso spiegare ciascuno di essi il primo è il macroeconomico il Brasile spende oggi approssimativamente un miliardo di dollari per il pagamento di royalties per l'uso di licenze di computer questa spesa sarà ogni volta più alta quanto più il Brasile si informatizzerà il Brasile è un paese poco informatizzato comincia a informatizzarsi adesso sempre più le nostre scuole le piccole imprese i piccoli comuni le persone cominciano ora a informatizzarsi quindi se utilizzassimo una piattaforma proprietaria questa informatizzazione sarà dannosa per il nostro paese e rappresenterà uno spreco enorme di risorse pubbliche per questo se utilizzeremo software libero nel governo potremo ridurre le spese e mostrare alla società che esiste un'altra piattaforma non proprietaria che le persone possono utilizzare senza commettere nessuna irregolarità il software libero rappresenta un'economia di risorse molto grande per il paese il secondo motivo è di sicurezza per definizione per noi del governo brasiliano un software chiuso è un software non sicuro ma perché? perché non dominiamo il suo contenuto il suo codice sorgente le linee di codice ogni linea di codice può contenere una routine che invia informazioni a persone non autorizzate pertanto il governo non può usarlo in aree sensibili e le persone non dovrebbero usare un software del quale non hanno pieno controllo pertanto la trasparenza per la sicurezza è fondamentale nel passato si credeva che la sicurezza fosse uguale a oscurantismo ma la sicurezza nella società dell'informazione è uguale a trasparenza alla possibilità di editabilità piena del software tant'è che l'esercito brasiliano la marina brasiliana utilizzano software libero già in modo molto intenso nell'area di crittografia il Brasile ha cominciato a costruire una piattaforma crittografica coinvolgendo l'ITI la marina l'agenzia di intelligence brasiliana università brasiliane per avere una piattaforma crittografica aperta e pienamente editabile il terzo motivo è la necessità di un paese in sviluppo di dominare le nuove tecnologie dell'informazione pertanto per avere un'autonomia tecnologica abbiamo bisogno di utilizzare un software libero il quarto motivo che ci ha portato a optare per il software libero è non rimanere legati a nessun fornitore di tecnologia quando tu utilizzi il software libero hai accesso al suo codice sorgente e chiedi che lo sviluppatore di software ci consegni una licenza GPL pertanto se dovessimo avere bisogno di sviluppare nuove migliorie nuove funzionalità in questo software non saremmo legati a nessun sviluppatore perché abbiamo il codice sorgente tutti i governi e tutte le imprese dovrebbero usare software libero per il fatto di non rimanere legati a un unico padrone a un'unica impresa il quinto e ultimo motivo è probabilmente il più importante un software è un'unione di routine logiche di informazioni concatenate queste routine sono ogni volta usate come intermediari del linguaggio umano così come la scrittura è un'intermediaria del linguaggio umano parlato il software nella società della rete in una società di computer collegati è un linguaggio base e questo linguaggio base non dovrebbe essere proprietà privata di nessuna impresa e di nessun gruppo pertanto noi consideriamo che il software è un elemento economico di grande importanza oggi e quanto più potremmo condividere la conoscenza di come farlo e di come usarlo tanto più potremo dividere e ridistribuire ricchezza rendita e potere per questo vogliamo utilizzare software libero e incentivare il software libero a metà dell'anno 2003 in Italia arrivano le conclusioni della commissione per l'introduzione del software open source nella pubblica amministrazione la commissione è stata voluta dal ministro Lucio Stanca in seguito alle pressenti richieste del mondo accademico dell'imprenditoria e dell'associazionismo per affrontare con serietà la problematica del software libero il risultato della commissione è che bisognerà utilizzare un criterio costi benefici per favorire la scelta del software libero rispetto al software proprietario della pubblica amministrazione noi abbiamo seguito naturalmente il dibattito che è in corso in questa fase che è nato un po' anche dalla discussione a livello nazionale sulle strategie di government che dice che con il software libero è possibile anche risparmiare risorse pubbliche è chiaro che in un momento di grandi difficoltà economiche della pubblica amministrazione la prospettiva di poter avere un risparmio di risorse economiche non è priva di interesse naturalmente non è priva di interesse però io credo che sarebbe sbagliato avere nei confronti del software libero un atteggiamento ideologico cioè come se da una parte ci fosse il profitto il mercato il denaro e dall'altra una piccola come posso dire cavalleria di puri in realtà è chiaro che anche chi fa software libero ha dei problemi di ritorno delle spese degli investimenti e degli impegni anche intellettuali che mette nel suo lavoro quindi va messo in conto che anche il rapporto con chi produce software libero è un rapporto di mercato ed è giusto che sia così quindi io non penso che il problema fondamentale sia seccamente risparmio credo che sia il ridare impulso anche a una sana competitività di mercato che può in parte abbattere i prezzi ma in parte anche creare nuovi poli di sviluppo magari nuovi poli meno dipendenti dall'estero di quanto non siano stati fino ad oggi beh una ricerca fatta l'anno scorso commissionata dalla CE e fatta dall'università di Maastricht ha fatto un censimento dei programmatori degli sviluppatori europei in generale di software libero open source insomma tutto quello che ci gira intorno è venuto fuori un dato anche abbastanza sorprendente il primo paese in Europa per numero di programmatori è la Germania il secondo è la Francia il terzo è l'Italia il quarto è la Gran Bretagna viene il quinto è la Spagna e poi viene l'Olanda l'Italia è quindi superiore alla Gran Bretagna come numero di programmatori open source di software libero stando a questa ricerca dell'università di Maastricht che credo fra poco verrà rinnovata in fase di rinnovo questo censimento ed è un dato così abbastanza sorprendente che però è un po' meno sorprendente se uno si va a vedere un po' che cosa è successo negli ultimi anni in Italia in questo settore e noi abbiamo fatto proprio di recente una gara importante con un capitolato molto impegnativo che riguarda il nostro portale internet che è un portale informativo ma è un portale anche di servizi avevamo per un certo periodo avuto un appalto con Infostrada Wind e poi si è concluso questo appalto abbiamo rimesso a gara il servizio e proprio nelle specifiche del capitolato abbiamo chiesto che su alcune materie ci fosse software libero ci fosse software open source e quindi ha vinto un raggruppamento di imprese nel quale si è rispettata a questa nostra indicazione in particolare la posta elettronica sarà utilizzata con un software open source e questo è naturalmente la prima esperienza che il comune di Roma fa è in un ambito ancora limitato ma noi ci tenevamo molto a farla perché la riteniamo una scelta culturale importante la riteniamo una scelta di apertura importante sappiamo che questo comporterà un momento di formazione per i nostri dipendenti che inevitabilmente qualche piccola resistenza qualche piccola preoccupazione ci sarà perché è normale che le persone si abituino alle cose che hanno fatto fino al giorno prima però noi riteniamo che anche questo fa parte dei nostri compiti cioè formare i nostri dipendenti a una mentalità più aperta e questo può anche poi produrre una professionalità più ricca che rimane come un patrimonio all'amministrazione e quindi siamo contenti di aver aperto questa strada e pensiamo che questo non sia che un primo passo a cui altri ne seguiranno la mediateca di Santa Teresa è aperta da un anno ci sono un centinaio di postazioni che servono alla consultazione di basi dati ma anche alla compilazione di un curriculum di una richiesta di lavoro abbiamo deciso di installare nelle nostre postazioni software open source è stato un motivo economico che ci ha deciso ma anche i suggerimenti del Ministero per l'innovazione tecnologica che recentemente ha indicato agli istituti delle pubbliche amministrazioni di rivolgersi a questo tipo di soluzione per conservare per esempio la facilità di comunicazione tra i diversi istituti oppure la possibilità di riutilizzare il software che man mano viene acquistato noi abbiamo acquistato appunto per esempio applicativi per la distribuzione dei nostri prodotti editoriali la Braidense la biblioteca da cui dipende questo istituto ha realizzato uno dei più grandi database sui periodici italiani ottocenteschi dell'inizio del novecento sono quasi un milione di pagine e tutto questo è distribuito con MySQL su una piattaforma Linux 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 sono anche i nostri proxy e i sistemi che governano la rete all'interno della mediateca appunto come dicevo è stata una scelta che ha un forte motivo economico noi abbiamo credo risparmiato circa il 70% rispetto ai prezzi di mercato di altre applicazioni simili siamo perfettamente soddisfatti abbiamo decine di migliaia di contatti l'anno sui nostri prodotti editoriali e speriamo di poter associare alla nostra iniziativa altri istituti alla fine del 2003 la NASA l'ente spaziale statunitense rilascia un documento in cui si afferma che il software open source per la NASA è lo strumento migliore per favorire la diffusione dei risultati per migliorare il software per garantirne la trasparenza e l'affidabilità il Brasile ha vari esempi che possono essere seguiti da altri paesi come altri paesi hanno vari esempi che possiamo seguire e dobbiamo seguire il Brasile ha molte cose ben sviluppate nell'area del software del software libero ha esperienze fantastiche nel Rio Grande del Sud nell'area bancaria la Banrisucchio utilizza software libero nelle sue agenzie abbiamo la Marina brasiliana che sta sviluppando applicazioni importanti con il software libero sicure abbiamo i telecentri di San Paolo abbiamo software di gestione ospedaliera gestione amministrativa software per piccole imprese sviluppati proprio in codice open source abbiamo giochi che sono sviluppati in codice open source abbiamo uno sforzo da parte del governo di enti di imprese di studenti di professori e abbiamo un'energia positiva e una idea di condividere se il modello di condivisione è un modello che deve essere seguito io dico che il Brasile deve essere seguito per questo modello di condivisione e di apprendimento perché funziona e può generare molta ricchezza non solo per noi ma anche per altre popolazioni del pianeta nel maggio del 2004 la società Google che è responsabile del motore di ricerca più potente al mondo decide di quotarsi in borsa questa decisione determina un piccolo terremoto finanziario e nel mondo dei media molti immaginano che questo possa aprire un'altra fase della new economy Google è un motore di ricerca che gestisce circa 150 milioni di richieste al giorno praticamente mille al secondo con i suoi 4 petabyte di memoria rappresenta la rete di Linux server più estesa del mondo tuttavia non si sa bene quanti siano i computer che utilizza l'esatto a montare della memoria disponibile ma quello che è certo è che probabilmente grazie a questa tecnologia la tecnologia Linux grazie al software libero l'azienda Google riesce ad aggiornare tutto il suo parco macchine senza determinare un'interruzione di servizio è certo che il servizio di web spidering indexing search and retrieval gira su sistemi GNU Linux anche se il web server è diverso da quello più noto di tutti cioè il server Apache si tratta di un server proprio della Google che si chiama appunto Google Web Server in realtà in realtà molte persone usano il software libero ma non hanno mai pensato alla questione della libertà che è alla base del software libero vedete negli anni 90 quando il sistema operativo GNU Linux divenne popolare e iniziò a prendere piede le persone videro che era superiore tecnicamente che era potente che era affidabile e quindi molte persone iniziarono a raccomandarlo ad altri per questi vantaggi tecnici e molte altre persone iniziarono ad usarlo per questi vantaggi tecnici e non hanno mai parlato di libertà e il risultato è che anche nella nostra comunità la maggior parte degli utenti non ha mai pensato alle questioni etiche che sono proprio il motivo per cui la comunità esiste e questa è una situazione pericolosa quando le persone hanno la libertà ma non la riconoscono e non le danno valore il pericolo è che se la lasci non scappare dalle mani ci sono così tante possibilità di perdere la libertà nella vita che se non dai valore alla tua libertà finirai col perderla oggi il software libero è utilizzato in aziende istituzioni e governi però non dobbiamo dimenticare che tutto è nato grazie ad un uomo che ama definirsi l'ultimo degli hacker dove la parola hacker torna ad assumere il suo significato originario se sono un hacker sì lo sono e precisamente sono stato un hacker fin dagli anni 70 ma siete probabilmente stati mal informati sul significato di questa parola all'MIT nel 1970 essere un hacker significava essere qualcuno che si divertiva a programmare in modo intelligente che si divertiva a risolvere problemi tipo creare un programma più breve di tutti quelli esistenti per fare un lavoro oppure creare programmi che facessero qualcosa al solo fine di divertirsi o che fossero strani come stampare numeri romani questo è qualcosa che fu fatto da un hacker ed aveva solo un'importanza da hacker perché non era per nulla pratico ed era solo per divertirsi quindi se sapevi programmare in quel modo eri considerato un hacker più avanti ho generalizzato e reinterpretato un po' il termine e oggi la mia definizione di hacker è qualcuno che si diverte a giocare in modo intelligente è il spirito of playful cleverness che si diverte a giocare a giocare a giocare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.